Mercoledì 6 maggio, buongiorno con TRG Mattina, la rassegna stampa in onda su TRG, su RGM è disponibile nel sito internet www.trgmedia.it Subito con le prime pagine, giornale dell'Umbria, pensionati, il rimborso potrebbe iniziare a giugno, ma c'è anche un richiamo sulla Galleria La Franca, la Galleria lungo la Foligno Civitanova, al centro dell'attenzione nelle settimane scorse a causa di servizi giornalistici nazionali, ebbene, dalle relazioni tecniche consegnate non emergerebbe alcuna anomalia. E poi Festival Umbria, un patto per promuovere la regione, ancora 9 sbarchi, 104 profughi inviati in Umbria, questi i titoli principali, secondo il giornale dell'Umbria, Corriere dell'Umbria, la cronaca giudiziaria, lei vuole studiare, lui la violenta, la donna era rimasta incinta dopo un rapporto sessuale forzato, marito alla sbarra, e poi anche dall'Umbria, una forte partecipazione alla protesta della scuola, andiamo a Terni sotto Torchio, le belve che hanno ucciso l'anziano, nuovo interrogatorio in carcere, mentre prosegue la caccia al basista, oggi l'ultimo saluto a Giulio Moracci. La Nazione Umbria, le sale extra lusso, siamo a Perugia, il comune a caccia di soldi, raddoppia la tariffa per l'affitto dei notari, aumenta anche il canone di locazione della vacca, sono le due sale più prestigiosi affittate dal comune, poi mamma e figlio, terrore dei vicini, aggressione ripetute atti vandalici in un condominio, i due rinviati a giudizio, lo vedremo nel dettaglio in tutti i quotidiani, messaggero, prima pagina, turni per vendere la droga a scuola, a Perugia cambiano gli orari di spaccio, 8 della mattina e metà pomeriggio quando girano gli studenti, vittime anche di scippi, la risposta baschi verdi, bloccano pusher, le forze dell'ordine dunque in azione, poi le prostitute devono pagare le tasse, un caso perugino in tre anni tesoro da mezzo milione, l'angolo del meteo come sempre con il messaggero, ondata di caldo, toccata e fuga, non durerà dunque, non sembra destinata dunque a durare eccessivamente questo anticipo d'estate, allora giornale dell'Umbria, ritorniamo per parlare delle pagine regionali, altra sforbiciata, 6,6 milioni in meno, conti a rischio, Alfano firma il decreto che toglie ulteriori risorse a Perugia Eterni, allarme, stipendi ed equilibri finanziari, per intanto il maxi essodo perugino in 83, subito via. Dicevamo dello sciopero della scuola, l'alta adesione in Umbria, aule vuote in centinaia Roma, per dire no, basta con la precarietà, stabilizzazione non solo del personale che è nelle graduatorie ad esaurimento organico, adeguato queste le richieste. Intanto c'è un'iniziativa che mette in rete, unisce le forze di alcune prestigiose rassegne regionali, creative in prima linea, festival uniti per promuovere l'Umbria contro la crisi degli operatori pronti alla collaborazione, sono i festival Young Jets, Density, Isola di Einstein, Terni Festival e Immaginario. Intanto si dimette il CDA di Perugia a Sisi 2019. Corriere dell'Umbria ancora con i fatti regionali, parliamo di elettromagnetismo, impianti e stazioni in costante aumento. Report dell'ARPA Umbria è aggiornato ai primi otto mesi del 2014 con la classifica dei comuni, espansione per telefonia e TV. Ancora con le pagine regionali, la politica, scontro di simboli in Casa Ricci, la sigla di area popolare, spunta nel contrassegno proposto da NCD, replica il sindaco. E Berlusconi salta la data, l'arrivo di Berlusconi in programma il 10 maggio, quasi certamente destinato a saltare, non sono arrivate conferme da Arcore al coordinamento regionale. La buona scuola della Giannini è finita sotto accusa, dicevamo, ampia adessione allo sciopero di ieri e grande partecipazione al corteo in piazza 4 novembre a Perugia. E l'ultimo atto di Perugia Capitale, dicevamo, si è sciolto il CDA della fondazione, il presidente Bracalente dice i soldi del ministero, ora li gestisce il comune. Con la Nazione, le pagine nazionali, c'è un caso di sanità, una notizia di sanità che arriva da Perugia, un robot infermiere in ospedale evita errori sui dosaggi di medicinali, si chiama Apoteca Chemo e sarà il guardiano di oncologia. Il dorso regionale con la Nazione, c'è tanta cronaca giudiziana, intanto però i servizi in cui viene dedicata l'apertura, ovvero l'impennata negli affitti, nelle sale da parte del comune. Allora affittare la sala dei notari diventa un lusso da 200 a 400 euro per quattro ore. Rincari anche per la Vaccala. In tema di finanza per l'ente, appalti e servizi muro contro muro, bocciata la proposta del Movimento 5 Stelle di istituire un registro delle imprese, la maggioranza ora chiede una consulenza all'università. Tanta cronaca giudiziaria, l'abbiamo vista anche richiamata nelle prime pagine, perseguitano coppie di vicini di casa, madre e figlio rinviati a giudizio, ripetute aggressioni e atti vandalici. L'accusa è stalking, i fatti sono successi di una palazzina di Foligno. Per errore uccise il padre, schiacciato da un tronco, patteggia a quattro mesi, la tragedia a Lidarno e poi il processo dal GUP verso il voto. L'ex leader CGL Bravi non dimentica la crisi, nasce il comitato sulla vertenza. Merloni e poi gli insegnanti compatti in piazza contro la riforma, mancano gli investimenti, non al President Manager, critiche al disegno di legge sulla buona scuola. Ancora torniamo al giornale dell'Umbria per iniziare l'esame dei comprensori, lo facciamo dal capoluogo Perugia, come sempre per i fatti principali che arrivano da Perugia, l'assicurazione collettiva verso il bis comune, si lavora il nuovo bando, microcriminalità, indennizzi e aiuti, intesa di massima tra maggioranza e opposizione, prima del voto sarà ascoltato il dirigente. Insulti i razzisti in campo, la condanna della Wispi, il Presidente Rumori dice, gesto incivile che non appartiene allo sport, l'Avvocato Federici sarà il giudice a decidere cosa fare. Una squadra ha abbandonato il campo durante una partita per solidarietà al compagno di origine africana, oggetto di insulti razzisti provenienti dal pubblico. E dunque la ferma presa di posizione dei vertici dell'ente di sport di base. Poi, trovato morto sul Tsubasio, un quarantenne, receduto è il figlio di un noto Avvocato e Professore Perugino, in Umbria, una scia di sangue. Da Perugia andiamo a Città di Castello, o meglio sulla direttrice che collega Città di Castello con Apecchio, la famosa strada pecchiese in campo ai sindaci, Bacchetta e Nicolucci, per ribadire che la sicurezza è fondamentale. La pecchiese non è una pista, un circuito per gare ufficio serimoto, ma un vero e proprio itinerario turistico tra Umbria e Marche. Ad Umberti, le studenti alle prese con il risparmio energetico, questa mattina presso il Centro Socioculturale San Francesco, la premiazione del concorso promosso da IMET ad Assisi, due ruote protagoniste anche d'epoca, mancano poco più di tre settimane, la Strasubasio Assisi Gold Edition, in programma per il prossimo 2 giugno, intanto i pellegrini dell'Unità si fanno tappa in città. E noi andiamo a Gubbio, dove è stato presentato il calendario unico per gli eventi, il progetto punta alla promozione della città e alla crescita del turismo, tante conferme e novità in vista. Novità invece positive per quanto riguarda l'edilizia scolastica, la scuola di Semonte verso il finanziamento, il progetto da 750 mila euro entra nel piano regionale. E poi il caso del Pullman, che ha avuto difficoltà di manovra per imboccare via Perugina, a seguito dei lavori, stirati il sindaco precisa, la strada era chiusa, ancora polemica sui lavori, la replica del sindaco. E stasera vi ricordo l'appuntamento con l'attesa, tra gli appuntamenti, in sommario c'è l'intervista al capo 10 di Sant'Antonio, Daniele Battistelli. Forigno, centro storico, qualcosa si muove? Movida e non solo, operatori protagonisti, serve un'assunzione di responsabilità, dopo tre mesi di incontri con i residenti, gli esercenti, i giovani e le associazioni che si trovano tra Via Gramsci e Piazza dell'Erba, arriva il primo resoconto svolto dal cosiddetto Focus Group, il gruppo di lavoro attivato al Comune, per trovare una soluzione condivisa su questioni che con l'inizio della bella stagione tornano a essere ancora più bollenti. Detto della vicenda giudiziaria, per il troppo rumore in condominio scatta la vendetta, madre figlia giudizio per appostamenti, minacce, ingiuri e lesioni, vittima in limite dell'esaurimento. Segnaliamo oggi l'iniziativa che vede in campo la Polfer allo Scarpellini di Foligno, studente a lezioni di legalità con il comandante della Polfer, l'appuntamento dunque alle 12. Foligno ancora, il cuore pulsante dell'oratorio, siamo a Santeraclio, attività per tutti i gusti e una grande funzione sociale, 50 ragazzi di diverse etnie che hanno partecipato a un laboratorio sulla creatività. Ci spostiamo a Gualdo, sul futuro del Calai, il dibattito politico resta ad alta temperatura, intervengono le varie forze politiche, ancora il Corriere dell'Umbra, ripartiamo da Perugia, con la cronaca giudiziaria, dalla violenza nasce una figlia, avrebbe picchiato e costretto più volte la moglie a rapporti sessuali forzati, solo perché lei voleva riprendere. gli studi sempre da Perugia con il Corriere dell'Umbra, sicurezza rischio, vigili urbani verso lo stato di agitazione, lo scontro su due delibere al summit di lunedì, da Palazzo Le Priori rispondono, i nostri atti sono ok. Ecco la nuova svolta sui rifiuti, sempre per Perugia, raccolta di urna ed ecobus nel piano aggiornato che sarà di nuovo condiviso con le associazioni, si punta al sistema ridondante, cosiddetto ridondante. Proseguiamo con Assisi, il Medioevo torna protagonista sotto l'egida del Calendimaggio, prende il via la 62esima edizione della manifestazione, quest'anno calendario rinnovato e la potete seguire nel dettaglio su TRG, grazie alla partnership con l'ente Calendimaggio. E poi, per quanto riguarda gli appuntamenti e i fatti di cronaca, si spostiamo in Alto Tevere, sindaci al lavoro per la sicurezza, summit tra Bacchetta e Nicolucci, in vista dell'aumento del traffico estivo sulla Piochiese, una statale, non un circuito, dicono gli amministratori e il cordoio in tutta la città e nel mondo del giornalismo per la morte di Enzo Rossi. Era stato investito, ricorderete, qualche giorno fa il noto giornalista intellettuale era stato vittima di un incidente due settimane fa, è morto al Santa Maria della Misericordia, intellettuale, figura di riferimento del mondo pacifista e ambientalista, cofondatore e direttore da oltre 30 anni del mensile L'altra pagina. Ancora la cronaca, crono tachigrafo alterato, serviva a modificare l'attività lavorativa delle conducente, poi operatori e artigiani a scuola di turismo, si avvicinano ai seminari di Wellcoming Lab, promosse finanziate dal gruppo Azione Locale. Studenti da tutta Italia per tre giorni, tra le note, addirittura d'arrivo il concorso nazionale Enrico Zangarelli, questo pomeriggio, Mazzitelli e Ciulnik in grande concerto, noi siamo a Gubbio, Sport Ceramica, Tavole Ugubine, Crescia Doc per turisti intelligenti, presentato il programma degli eventi estivi in autunno Festival Internazionale del Medioevo. E poi manovre rotatorie a quel pulma non avrebbe dovuto trovarsi lì. Il sindaco Stiratti dopo l'episodio che ha dato adito a polemica illustra quali saranno i temporanei cambiamenti per i lavori. Cena delle San Giorgiare in programma tra buona cucina, musica e allegria, ovviamente clima ceraiolo a 360 gradi, poi la scuola di Semonte inserita nel piano di edilizia scolastica. Per quanto riguarda invece le grandi opere, il Puc 1 di San Pietro necessari altri 5 milioni per la realizzazione delle ultime opere. Il consigliere Gagliardi fa la relazione, spiega le prospettive, legge il futuro per questa incompiuta. Gualdo, bilancio sano, riapertura del Calai e valorizzazione di tutto il territorio. Il PD Gualdese riunito in assemblea fa il punto e dice la sua sull'amministrazione Presciutti. Sempre da Gualdo arrivano le Sandonatiadi per far crescere i portaioli più piccoli di Sandonato ed è un vero successo per la passeggiata di primavera nella frazione di Isola. Tanti anni ho partecipato alla manifestazione che annuncia novità per l'anno prossimo e poi l'Opificio Museo Ruboli tappa di un viaggio brasiliano. Sempre da Gualdo. Sport si grazie per annullare la diversità. Sono stati oltre 400 i giovani atleti disabili e nonne che hanno partecipato alle gare infine da Valfabbrica il Cantamaggio torna a Casa Castalla tra antica tradizione e buona cucina. Foligno ora sanitale criticità sotto la lente dalle liste d'attesa al pronto soccorso si punta a ottimizzare risorse e ridurre sprechi il sindaco propone un patto territoriale. Abbiamo visto le iniziative per regolamentare la cosiddetta movida ci occupiamo ora invece dell'erba alta ai rifiuti ride vandalici al Parco Hoffman in preda al degrado da punto di riferimento per la bella stazione l'area ora versa in condizioni di abbandono e in cura altra denuncia le seringhe l'immondizia e l'area dell'ex ospedale trasformata in discarica segnaliamo la visita del generale Battisti alla caserma Gonzaga e poi camping centro ippico di Spello all'asta la comunità montana vende la proprietà pubblicato il bando di alienazione che riguarda tre lotti distinti con i vari prezzi di partenza con la nazione ripartiamo dal dorso regionale con i servizi che arrivano dai territori partendo per l'appunto da Sisi Santa Maria degli Angeli svuotano nella notte un negozio di telefonia Blitzene via Los Angeles questi malviventi infrangono la vetrina e fuggono col bottino il caso del pullman imprigionato il traffico che va in tilt con la nazione disagi per i lavori in via Perugina Casagrande del PRC dice è diventata una barzelletta l'ultima denuncia arriva appunto dal segretario del PRC Eugubino Luca Casagrande che racconta un episodio recentissimo per mettere sotto accuso sindaco stirati assessore Alessia Tasso descrive appunto il fatto dice il tutto si è risolto grazie ad alcuni passeggeri che hanno sradicato la segnaletica stradale posta sull'isola appunto per denunciare l'incongruità dell'intervento a cui come abbiamo visto ha risposto ieri difeso l'intervento difeso dall'amministrazione stirati ancora a Gubbio la nuova scuola elementare di Semonte presto sarà realtà e poi novena di preghiera per Sant'Ubaldo gli appuntamenti religiosi in vista della festa delle patrone poi a Gualdo conto consuntivo PD a sostegno del sindaco l'amministrazione non ha deciso ulteriori spese sempre da Gualdo la NACA rinnova gli incarichi convocata l'assemblea è sempre da Gualdo oltre 750 luni ai giochi della gioventù la pagina di città di Castello si apre con il cordoio per la morte di Enzo Rossi il giornalista da 30 anni direttore dell'altra pagina era stato investito mentre attraversava una strada e poi ovviamente si avvicinano gli appuntamenti in ricordo di Venanzio Gabriotti poi polemica sui costi del segretario comunale l'ira dei grillini siamo ad Umbertide il Movimento 5 Stelle dice recupererà le spese aumentando le tasse questo con punto interrogativo per l'ambiente energia sostenibile si premiano i vincitori 11 scuole 400 studenti per il concorso di IMET l'iniziativa per la sicurezza sulla Pecchiese l'abbiamo visto anche l'operazione contro il tachigrafo manomesso poi ricordiamo la grande attesa per il concorso Zangarelli a Foligno la bufera galleria l'inchiesta procede i testimoni ascoltati dai carabinieri gli operai avrebbero confermato le accuse lanciate nelle interviste tv sarebbero stati sentiti dunque dalle forze dell'ordine secondo i due lavoratori il tunnel sarebbe stato realizzato con poco cemento e sul nodo sicurezza ha chiesto un tavolo ombre a marche e tardano gli esiti delle perizie effettuate con il georadar rilento le verifiche effettuate nel tratto di 77 oggetto di indagia secondo la nazione che si occupa anche del Foligno Calcio l'asta in programma il 21 maggio tifosi in ansia guerra contro il tempo per i falchetti lo vedremo anche nello sport con il messaggero sale comunale più costoso affittare notari Eva Cara come detto e poi droga turni per lo spaccio a scuola e il servizio di apertura segnaliamo anche questo fatto di cronaca tesoro della escort inchiesta e tasse non solo Rimini anche a Perugia dopo il blizza della finanza c'è il conto presentato alla giovane accompagnatrice in tre anni di lavoro accumulati in cassi per mezzo milione in casa da 250 mila euro e mutuo leggero innescano l'accertamento dalla provincia a Gubbio un finale diverso per la festa ricerca chiederlo il cappellano della festa Don Mirco Orzini che dice basta con la chiusura del portone l'eccesso di agonismo le parole di Don Mirco penso che ormai siano maturi i tempi per una presa di coscienza oggi si può fare una scelta naturale ad assesi pronti via il giorno del caren di maggio da Montone 2020 pedoni al centro della scena nuove idee per mobilità turismo e traffico da realizzare in dieci anni ancora da Città di Castello l'operazione di cronaca contro la manomissione del tachigrafo poi arrivano mille musicisti a Città di Castello con Foligno siamo a 43 mila euro compri il Foligno anche qui c'è la vicenda della società calcistica al centro dell'attenzione ecco l'asta si decide tutto il 21 corsa per costituire la nuova società ora restano meno di due settimane nella valutazione del patrimonio settore giovanile non svincolati e anche le coppe intanto Rita Borsellino interverrà alla festa dell'Europa poi è stato rubato hanno notato i due uomini si trovavano in prossimità del luogo dell'abbandono nel sottopasso di Porta Ancona questi i fatti che arrivano da Foligno noi ci avviamo alla chiusura di questa prima parte come sempre con gli spunti che arrivano dall'economia e poi con la cultura di spettacoli l'economia c'è la galleria La Franca al centro dell'attenzione consegnate le relazioni da controllo emergerebbe l'assoluta regolarità dell'opera nessun indagato da quanto si è potuto sapere da fonti ben informate scrive il giornale dell'Umbra le relazioni sarebbero due la prima riguarderebbe la qualità del calcestruzzo usato con il risultato che non c'è alcuna anomalia la seconda invece si occuperebbe di altri aspetti come la qualità del materiale utilizzato e anche su tali questioni tutto risulterebbe in regola ancora l'economia con il Corriere dell'Umbria gli spunti che arrivano dal piano di sviluppo rurale c'è stato il tavolo con le associazioni di categoria l'approvazione è prevista entro il primo di giugno al via i bandi per circa 60 milioni l'Umbria dunque ha concluso le pratiche con Bruxelles e si appresta a ricevere cospicui finanziamenti poi un'eccellenza come il vino e il sagrantino in particolare che fa bene alla salute piace ai tedeschi al mercato italiano in Germania una città tedesca protagonista all'osteria del bastardo e poi con l'economia andiamo direttamente alla nazione anche qui le proposte e gli spunti che arrivano dal quotidiano toscano e che riguardano l'Umbria c'è appunto l'agricoltura bandi da 60 milioni così riparte l'agricoltura restiamo alla nozione e andiamo a parlare di cultura e spettacoli con la task force dei 5 festival così si rilancia la cultura contemporanea la pagina di giorno e notte con il messaggero anche qui la sfida dei fantastici 5 sono un po' la notizia del giorno i festival di ultima generazione presentano un progetto per affrontare il futuro dello spettacolo in Umbria e guardano ovviamente i finanziamenti che arrivano a seguito della candidatura a Perugia capitale della cultura e poi la magnifica cinquina che vuole andare oltre per il Corriere dell'Umbria chiudiamo come sempre con l'inserto extra del giornale dell'Umbria io cacciatore di emozioni mogola la straniera di Perugia nella sua lexio magistrale si ha svelato l'arte delle paroliere poi il caso di un rapper Kendan Tarantino di nascita ma residente nel Perugino che ha scritto un brano focalizzato sull'attualità scrive il giornale dell'Umbria errare umano abbandonare e schettino queste le parole utilizzate con le quali noi concludiamo la prima parte di Rassegna Stampa ci fermiamo come sempre per un breve stacco pubblicitario tra poco di nuovo insieme con lo sport di Rassegna Stampa